un po' di salita 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 4 ore e 28 minuti 9 chilometri 360 metri sono a 2.126 metri sul valico del tartaro quello è il tartaro ecco la partenza dall'osciale eccoci qua ragazzoni buongiorno bravo noi a ventanie siamo sul monte delle lezzuole passate via fuori delle lezzuole ok eccoci qua mercoledì 9 ottobre 2019 mi sembra che sia 9 o 9 o 10 un attimo continua la nostra camminata nel bosco ormai siamo siamo fuori dal tunnel dal divertimento e guardate che bello buongiorno eccoci qua di nuovo dopo aver fatto festa al carnevale di Civita Castellana oggi siamo tornati a camminare siamo sul Gran Sasso siamo all'aghetto di Ragorda questo è l'aghetto ok oggi è 17 dicembre 2019 e siamo a Campo Felice stiamo andando a fare lo sperone della cavigliana ok questo è uno dei rari da stamattina uno dei rari momenti in cui usciamo dal bosco ci siamo un po' di luce dentro da qua la fazzetta era buio questo e ok qui al rifugio Racollo finisce la nostra passeggiata 6 ore e 5 minuti per i giorni 15 km non è 15 km 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 siamo andati verso ok buongiorno oggi è il 28 maggio 2020 siamo a sigillo in provincia di riedi passiamo sulla città la città la città la città Ok, fine escursione, sono stremato, 21 chilometri, 1500 metri di dislivello. E' partito, è partito, eccoci qua, siamo qui sulla neve, possiamo cominciare a fare una cambiatina, la neve prima che casca. Noi non sta accesa Pasqua? Sì. Perché Pasqua la puoi, ti chiami Costanza? Eh beh, ora cambia pure il nome. E' sabato 11 luglio 2020, si ha... Ok, escursioni finite per oggi, sono 12 chilometri. Palletta, palletta rossa, perfetta, allora siamo questi che fanno rumore. Eccoci qua, oggi è 8 agosto, giusto, sì? Esatto. Oggi è 8 agosto 2020, siamo a... Oggi è 8 agosto, giusto, 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 a te bello, a te bello, con un po' di tavernello eccoci qua, oggi è sabato 29 febbraio buongiorno da Campocadino, provincia di Frosinone noi siamo sui monti Ernicisibur, ok, sono qui da solo, qua sono sull'anticima sud eccoci qua, sul monte, una fregna, due fregne, eccoci qui, ecco Stanzo, eccoci Sperone dei Diburtini, con questa vetta finisco tutta la catena del velino sireno eccoci qua, la compagnia dell'Anello, di quattro moschettieri di Ernicisibur, sulla vetta dello Sperone di Frosinone Sperate, eh. Sperate, Ole altamente. a Skeh, ti butto Cima dei vecchi 1900 e qualche spiccio 1800 Eccoci qua in vento al Ponte Corzano Eccola 50 1800 Cima Roscia La Cima Roscia La Cima Roscia La Cima Roscia La Cima Roscia Chiangelo Rosso Sto contenta La Farnate Vai! Eccoci qui sulla famosa colme d'aspetto senza vento. E' un po' di Camponosso alle nostre spalle, ecco la mia famiglia sulla città della porta. Ok, eccoci di nuovo, oggi sabato 7 novembre 2019, siamo a Pianta e la Fageta. Sui Monti Lepini, ci andiamo a fare un zietto sul Monte Capreo. Eccoci, c'è un'altra cima dei campi della Maggione. Campi della Maggione, siamo precisi, Fernando. Sì, eccoci in discesa dal Monte Termino Eletro. Ma sai che muscolo è gigante. Era un bumbo, era un'elefante. Stiamo scendendo su una bella pietraia. Qui c'è la pietraia. Corso. Eccolo. Eccolo qua! eccoci qui a capo dell'osso ok buongiorno siamo nella zona del terminilo oggi è 7 luglio 2019 sono le ore 7 e 5 minuti oggi è 3 luglio 2019 sono le 8 e 20 minuti ci andiamo a fare una passeggiata di salute sul monte termine luccio a patrizia manca quello per concludere la catena del eccoci qua ci vediamo dobbiamo andare lassù lassù vai andiamo eccoci qua siamo alla sella tra il termine luccio e termine il letto andiamo alla cabina telefonica giusto giusto un alito di vento qui abbiamo anche la cabina telefonica non è un alito no ok oggi è oggi è il 28 agosto 2019 stiamo andando sul monte sul monte pelato che poi è il monte mio e sono sono i quattro intremiti alpinisti eccoci qua eccoci qua siamo immersi nella faggeta questo è uno dei percorsi più belli per raggiungere la vita del termine luccio il monte della sassi e termine luccio è quello che può vivere secondo me è un sentiero più bello ok oggi è mercoledì 24 luglio 2019 sono le 2.45 siamo al campo imperatori sul gran sasso il monte brecciano e comunque anche il monte brecciano lo facciamo qua noi sarei devono lo abbiamo tutto lo abbiamo il monte brecciano il presbitto sempre la sassi e la nata 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 eccoci qua i miei di pezza direzione la magnola le rocce direzione la magnola le rocce le rocce le rocce le rocce in mezzo alle rocce siamo in bella le rocce le rocce le rocce le rocce le rocce Buongiorno, siamo nel Parco Nazionale d'Abruzzo, direzione Lago Vivo, ci andiamo a fare un zietto al Lago Vivo. Oggi è mercoledì, guardate il lago di Barrea là sotto. Eccoci con l'altro, ragazzo, un video di moto, un altro video set! Ciao, venite con noi! C'è tanta neve! in barbatia periglia in abruzzo continua la salita verso il monte di cambio Marlizzi è dietro, gli sta lasciando lo scarpone è uscito un po' di sole e continuiamo siamo in salita verso il monte del mielletto caldo bestiale, ecco qua sotto ieri abbiamo due ospiti con noi, da Marisa arriva guarda che se non te sto riprendo se te riprendo vai a finire su youtube ok oggi 14 luglio 2019 sono le ore sette siamo partiti alle sette e diciotto da cartone siamo diretti al lago da Lucchester sulla punta del Lucchettura oggi è sabato 20 luglio 2019 sono le sette e quarantacinque sono le ore sette e ci sono i nostri eroi sono i nostri eroi, sono i nostri eroi del Sant Nicola Oggi è giovedì 7 novembre 2019 Come vedete alle mie spalle c'è il Pian de Valle Siamo sui Monti dei Catini Quindi partenza Pian de Valle Ci andiamo a fare Mentre Silvia Cammina in basso sotto la Piana Io mi sto a fare tutta una cresta qui spettacolare Uno spettacolo veramente bellissimo Eccoci qui Mi ritorno a Campo Felice Ci vedete 15 km circa Di rivello luso Ed eccomi qui Sulla cima Angelo 2217 metri Silvia E roto mi sono venuti salire sopra Eccomi qua Sto salendo In solitaria Sul monte Non mi scordo Monte Vabbè Sono salita solo perché Silvia Eccoci Di nuovo Nella zona del Terminillo Oggi andiamo a fare il monte Allora oggi è domenica Grazie a tutti Allora Questa Questa Questa